Ok, ragazzi, che cosa succede quando zio Vlad si sente trascurato ed isolato e cerca disperatamente di farsi notare sulla scena geopolitica mondiale? Ma è semplice, rilascia una conferenza stampa di questo tenore qui. Ok, volevo informarvi del fatto che ho personalmente dato istruzioni alle forze aerospaziali russe. Bravo Vlad, senti come suona bene il termine forze aerospaziali. Fa volare l'immaginazione, dà l'impressione che tu abbia a disposizione dei Gundam. Quindi in realtà di spaziali hai soltanto dei belli. Le nostre forze aerospaziali stanno iniziando a pattugliare l'area neutrale sopra il Mar Nero. E i nostri MiG-31 sono equipaggiati con missili Kinjal. Missili Kinjal! Novanta, la paura! Ci stiamo cagando sotto! Cosa? Ci stiamo cagando sotto! Cosa? Ci stiamo cagando sotto! I quali hanno un raggio d'azione di oltre 1000 km e una velocità pari o superiore a Mach 9. E quando hai degli aeroplani con dei missilazzi così, che cosa potrà mai andare storto? E niente ragazzi, è più forte di lui. Vladimir Putin deve dimostrare di avercelo sempre più grosso degli altri. Mielbissile! Intendo dire, i suoi MiG-31 voleranno nella zona neutrale sopra il Mar Nero, cosa che hanno tutto il diritto di fare, appesantiti da missili Kinjal che possono raggiungere anche la velocità di Mach 9 e forse colpire un bersaglio. Ce ne faremo una ragione! Nel frattempo, gli americani hanno dislocato il Ford Carrier Strike Group nelle vicinanze di Israele per essere pronti a fornire assistenza se ce ne fosse necessità. E stanno facendo un pensierino considerando la possibilità di mandare anche la USS Eisenhower e le sue navi di supporto. E per di più, dopo l'annuncio di Putin, da Gaeta è partita anche l'ammiraglia Mount Whitney, nave statunitense specializzata in comunicazioni e quindi anche in spionaggio, perché dovete sapere che in gergo militare chi si occupa di comunicazioni spesso e volentieri si occupa delle comunicazioni altrui. Mentre invece, zio Vlad fa svolazzare sulla zona neutrale del Mar Nero dei MiG-31 con dei missili Kinjal. Raga, i gusti sono gusti. Immagino che serva per impressionare l'Iran, la Siria e i suoi nuovi alleati arabi per dare l'impressione che zio Vlad sia pronto a intervenire in loro soccorso nel caso in cui la Ford e la Eisenhower, insieme ai loro gruppi di supporto, decidessero di fare una capatina in Iran per favorire un cambio di governo. Sì, lo so, è un'ipotesi da fantascienza, ma i russi sono almeno 20 mesi che ci campano con la fantascienza. E non c'è bisogno di ricordare che Lavrov ha fatto una turnée teatrale in India di successo raccontando che la grande madrepatria russa era stata brutalmente attaccata a tradimento dall'Ucraina. Perché fornire gli Atacams? Azzardo per farti il... Riprendetevi gli Atacams e tutte le altre armi. Uè, Nan, ma hai idea di quanto ci costerebbe il trasporto prima e lo smaltimento dopo? Non se ne parla. Sì, si sanno sui blini e vengono a noi a ceipite. Gli occidentali hanno bisogno di mettersi comodi per mangiare i biscottini. Offriamogli un pochino di tè. Infatti i tè di Vlad sono famosissimi. Prendiamo comunque atto che siamo passati dalle minacce di scoppio della terza guerra mondiale all'offerta di tè e biscottini. È già un passo avanti. E soprattutto, ragazzi, è la prova che il professor Alessandro Orsini si sbagliava. Vi ricordate come si spaventava e finiva terrorizzato ogni volta che parlava delle linee rosse di zio Vlad? Ebbene, gli Atacams erano una di queste. Se l'Occidente dà questo tipo di armi e di missili agli ucraini, la Russia reagirà male. Infatti la conferenza stampa l'ha tenuta all'aperto e per di più non ha offerto assolutamente nulla agli ospiti. I quali, in effetti, a voler essere pignoli, non hanno mai mostrato particolare apprezzamento per gli stuzzichini e le bevande che Putin ha sempre offerto loro. D'altronde, se secondo gli ucraini la guerra è già persa per noi russi, a cosa servono gli Atacams? Azzardo per distruggere basi aeree e depositi di munizioni russe fino a 200 km di distanza, per disarticolare la tua catena logistica e neutralizzare l'aviazione. Fategli questa domanda, sarà divertente. Ok, tanto per iniziare, gli Atacams hanno già colpito un paio di aeroporti sotto il controllo dei russi. Uno a Luanz e l'altro a Berghansk. Nell'aeroporto di Luanz almeno 5 elicotteri sono stati danneggiati o seriamente danneggiati. E se aguzziamo la vista possiamo vedere le 970-980 droplet che sono state scaricate dall'Atacams poco prima dell'impatto. Questo missile in pratica è incredibile. Poco prima dell'impatto sopra il bersaglio si apre e libera letteralmente un migliaio di piccole bombe che si spargono in maniera uniforme su un'area equivalente a quella di un campo da calcio, polverizzando o comunque danneggiando seriamente tutto ciò che si trova su quella superficie. Aeroplani, elicotteri, mezzi e naturalmente anche piste d'atterraggio. E se ve lo state chiedendo, sì, gli analisti non esattamente da divano possono dimostrare che tutti questi danni sono stati arrecati dall'Atacams per il semplicissimo motivo che abbiamo a disposizione immagini satellitari più vecchie e più risalenti nel tempo, in realtà risalenti al 10 ottobre, quindi circa una settimana, dieci giorni fa, dove è possibile vedere che le piste sono perfettamente intatte. Nell'immagine più recente, quella del 17 ottobre, ci sono altri due dettagli interessanti. In primo luogo è possibile notare una grande area nera, presumibilmente un cratere. Non siamo in grado di dire se questo cratere è stato causato dal missile ormai vuoto e praticamente scarico di droplet che è piombato giù con tutto il suo peso, oppure se in alternativa si tratta non di un cratere ma di un veicolo che ha preso fuoco ed è esploso, perché le droplet formano una vera e propria rete che è difficile evitare. Verosimilmente quasi qualunque veicolo all'interno di quell'area o viene danneggiato o viene incendiato. Il secondo dettaglio interessante è invece la presenza di mezzi aerei perfettamente integri. Questo significa che i russi, esattamente come hanno fatto nell'altro aeroporto, dopo essere stati attaccati e dopo vedere andare distrutti un certo numero di elicotteri, non imparano la lezione e continuano a utilizzare la base come se nulla fosse. Certo, esiste anche la possibilità residuale che quegli aerei non possano più decollare perché le piste sono state danneggiate, ma a livello teorico ripararle dovrebbe essere una priorità proprio per permettere l'evacuazione degli altri aerei. Insomma, i russi allo Stato non sembrano essere molto organizzati per contrastare questa minaccia. Inoltre va da sé che l'antiaerea russa o non è entrata in azione o non è stata in grado di intercettare il missile. Missile che, ripeto, è molto, molto più ingombrante rispetto a un HIMARS e che quindi, almeno a livello teorico, costituisce un bersaglio molto, ma molto più facile da colpire. E se esaminiamo le immagini satellitari prese dall'altro aeroporto, quello di Berliansk, arriviamo a conclusioni molto simili. Qui le immagini satellitari mostrano nove elicotteri, dei quali almeno cinque danneggiati con successo. Quindi gli Atacams, nelle loro prime due missioni, hanno reso inutilizzabili altrettanti aeroporti dei russi e hanno abbattuto, o meglio hanno distrutto, mentre si trovavano al suolo, una decina di velivoli. E da quella base non potranno più attaccare le forze ucraine per un po'. Naturalmente si tratta di una vittoria solo parziale per gli ucraini, perché il problema serio arriva ora. I russi, esattamente come l'anno scorso, hanno in programma di colpire le infrastrutture energetiche degli ucraini per lasciare la popolazione civile al freddo, al gelo e al buio. Gli Atacams possono aiutare a rendere più difficile la vita ai piloti russi, i quali dovranno decollare ancora più indietro per colpire gli ucraini. Il problema grosso sta nel fatto che la maggior parte delle bombe dei missili possono essere sportivamente lanciati dal territorio russo e bielorusso. E quindi gli ucraini saranno ancora dei bersagli, un pochino meno facili perché per l'appunto il missile deve essere lanciato da una distanza maggiore, il che darà qualche attimo per prepararsi meglio ad intercettarlo. Ma non sarà esattamente un game changer come era stato previsto da alcuni. Naturalmente spostare tutta la logistica per i russi di ulteriori 200 chilometri è un gran bel problema, ma i propagandisti nel loro piccolo si stanno sforzando di fare necessità virtù. Se prima ci avevano venduto la storia dell'operazione rapida in dolore, dopo 20 mesi fanno invece leva su quanto sia importante protrarre la guerra. Perché da veri patrioti russi loro vogliono soltanto una cosa. Scopriamo insieme uguale. Lasciatemi dire una cosa come un patriota russo. Vorrei prendere alla larga la questione su chi chi ha ragione, chi invece è da incolpare per la durata del conflitto. Essendo io una persona che dà la priorità agli interessi della federazione russa, mi è assolutamente... perché ora mi ricordo alcune attrezzate emozioni, ma mi è assolutamente stile. Probabilmente susciterò in tutti voi delle emozioni negative, ma non mi importa. Questo conflitto dà l'opportunità di rinforzare la supporta dell'Ucraina e della strada dell'Ucraina. Questo conflitto crea problemi per il nostro geopolitico противno. La durata del conflitto ci dà l'opportunità di indebolire il supporto occidentale all'Ucraina. Inoltre, più a lungo si protrae questo conflitto, più problemi ha il nostro avversario geopolitico. E così qualsiasi sviluppo viene a nostro esclusivo vantaggio. Esatto, nostro è nella patria. Wow! Non avevo mai considerato questo aspetto. Più il conflitto dura, più Zio Vlad ci guadagna. Ecco perché sono passati 20 mesi senza che i russi riuscissero ad avanzare più di tanto. Lo fanno apposta a restare inchiodati su quelle posizioni e prendere delle sberle a destra e a manca. Lo fanno perché vogliono indebolire il supporto occidentale all'Ucraina e mettere in crisi gli Stati Uniti. Ora, questa teoria ha un paio di piccolissimi problemini. In primo luogo, una guerra che si protrae per 20 mesi causa dei danni anche a chi la promuove. Nel caso specifico, i russi hanno perso tantissimi uomini e tantissimi mezzi. Mezzi che non sono più a loro disposizione, che dovranno essere ricostruiti. Stessa cosa più o meno vale per gli uomini. Quelli che sono finiti sottoterra li devi rimpiazzare, ma per rimpiazzarli devi prima averne e poi li devi pure mestrare. Sotto il profilo internazionale certamente ti sei fatto un paio di nuovi amici. Ma tu credi davvero che per l'Occidente questa guerra sposti qualcosa? Gli americani hanno investito sì e no il 5% del loro budget militare. Il 5%. E tra l'altro hanno rifilato agli ucraini i fondi di magazzino. Detto fra parentesi, gli Atacams che hanno finalmente dato agli ucraini sono stati prodotti negli anni 90. Fra qualche mese sarebbero stati da buttare in ogni caso. Perché non è che le armi le puoi tenere da parte e utilizzarle sportivamente dopo 40-50 anni o addirittura dopo un secolo. Ripeto, gli americani hanno dato dei fondi di magazzini agli ucraini. E in cambio con quel 5% speso si acquistano tanti giocattoli nuovi che restano sul territorio e al servizio degli Stati Uniti. La stessa regola vale naturalmente per tutta l'Europa e per qualsiasi nazione abbia fornito supporto all'Ucraina. Viceversa, l'economia e la diplomazia russa che cosa ci hanno guadagnato? La risposta è nulla. La gente inizia a vedere che l'esercito russo non era poi così forte come si aspettava e inizia a mancare di rispetto a zio Vlad. L'Armenia, per esempio, si sta staccando dall'area di influenza russa per passare a quella occidentale. Gli stati della federazione russa più ricchi di petrolio e gruppo degli Stan stanno poi alla finestra ad aspettare che l'esercito russo venga sufficientemente indebolito per staccarsi e passare dall'altra parte. E anche gli amici cinesi ricordo che hanno già rinominato Vladivostok nella loro lingua madre. Anche questo qualcosa potrebbe significare. Quindi, a differenza... Quindi no, la guerra è tutt'altro che un'opportunità per il governo russo, per la federazione russa e soprattutto per i russi che poi devono anche combattersela. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando un messaggio qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video, valutate l'ipotesi di diventare un Patreon o, in alternativa, perlomeno iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete il link al video e lasciate un grande e grosso mi piace. Per voi sono pochi click, ma per il canale significano davvero tanto. Inoltre, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, improbabile e certamente remoto, potreste ritrovarvi con Zio Vlad come vicino di casa, il quale alla prima assemblea condominiale vi ricorda che attorno al palazzo sta facendo volare un MiG-31 equipaggiato con missili Kinshaw. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.